È stato indetto da SIDIEF in collaborazione con l'Università dell'Aquila un concorso a premi per rilanciare il quartiere Banca d'Italia all'Aquila, devastato dagli eventi tellurici del 2009. Questo è un quartiere che ha bisogno di rinascere, rinascere non solo in termini architettonici o ingegneristici, ma anche in termini di gestione dei servizi a supporto di questo quartiere. Le idee progettuali dovranno avere carattere innovativo, basate su tecnologie ecocompatibili per riqualificare e dare nuova immagine al quartiere. Riteniamo che una delle chiavi per poter pensare ad una rinascita reale della città e perciò anche del quartiere Banca d'Italia non sia legata soltanto a un investimento immobiliare, quanto piuttosto a un investimento pluriculturali ed interdisciplinare. Oltre ai premi in denaro, il primo qualificato avrà la possibilità di vivere gratis nel quartiere in un appartamento di 100 metri quadrati parzialmente arredato per un anno. Il miglior progetto riceverà una somma di 5.000 euro, mentre al secondo e al terzo classificato spetteranno 3.000 e 2.000 euro. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti dell'Ateneo Aquilano e a quelli del Gran Sasso Science Institute. Il contributo dell'Università dell'Aquila fondamentalmente è il mettere in gioco gli studenti dell'Università dell'Aquila. L'idea condivisa è stata quella di cercare di coinvolgere direttamente attraverso un bando gli studenti per capire che cosa può essere per un ragazzo, per i ragazzi che oggi vengono e fanno l'università qui, magari vengono da fuori, che cosa può significare reinterpretare la storia del quartiere alla luce di una nuova città che comunque sta rinascendo. È diversa, non sarà la città né che conosceva il quartiere Banca d'Italia alle sue origini né prima del terremoto. Quindi un po' un ripensamento globale, come abbiamo detto in chiave moderna e anche un po' tecnologica, e ci aspettiamo belle idee.